Ho ho ho, Merry Christmas and Happy New Year! E quest'oggi amici di Sport Itapation siamo nella creativa, nella creativa di Fortnite perché ho dei trucchi, voltati, dove sei? No, non posso voltarla, ho dei trucchi importanti 5 trucchi da utilizzare nei vostri fight, che siano box fight, che siano fight aperti, insomma trucchi papali, che potete utilizzare, potete addestrarvi tranquillamente con un vostro amico dove volete e che vi assicureranno una vittoria praticamente certa Rientraccio il mio compagno e poi iniziamo subito questo video As they explore the island, they'll have scores to settle and bounties to collect All while we get ready for the next phase, and we're just getting started So, what are you waiting for? The hunt is on Ed eccolo qua, il primo trucco Ci troviamo davanti a una boss fight, il nostro, eh, una box fight, scusatemi ragazzi E il nostro avversario, guardatelo, è lì dentro, lo vediamo Ciao Riccardo Guardatelo, è lì, aggressivissimo, ok? In realtà ragazzi, quello che vi voglio consigliare oggi è una tattica molto semplice, ok? Cercate di mettergli, lui pensa di essere al sicuro nelle sue quattro mura Ma voi dovete cercarli di mettergli un po' di pepe al culo E come si fa? Gli mettete questo bel cosino, guardatelo Lo lasciate, gli lasciate Ma... Chi ci ha detto di spaccarlo? Non spaccarlo! Ecco, ho sistemato la situazione Vedete, lui con la torre e la piramide lì in mezzo Guardatelo, guardatelo come è dannatamente esposto ai miei colpi Guardatelo che... Vabbè, adesso si è fatta pure notte Eh, ma che cavolo ci si mette di tutto e di più Il nostro avversario sicuramente non starà qui a prendersi una pompata in da faccia, ok? Ma sicuramente starà negli angoli più esterni Ma qualsiasi angolo lui voglia utilizzare, ok? Lo vedete di come essenzialmente È molto alla nostra merce E con questo cosino, ragazzi E con il fattore triangolo È ancora di più alla nostra merce Questo ci permette a lui di mettergli su tantissimo stress E poi, obiettivamente Di poter impostare il fight come meglio crediamo Vedete, a meno che lui non butti giù Il nostro... La nostra piramide Che in questo caso noi abbiamo creato di mattoni Ma si può anche creare di ferro O di legna O di quello che volete Anche se lui pensa di essere al sicuro sotto la nostra costruzione Lui pensa di essere al sicuro così, no? E in realtà, ragazzi, non c'è nulla di più sbagliato Nulla di più errato Questa è la prima Delle grandi strategie Che ho intenzione di Portarvi quest'oggi E la ripetiamo e la rivediamo insieme Il nostro nemico si trova all'interno del suo box Che abbiamo creato noi O che ragazzi ha creato lui Poco, poco importante Andiamo a editare Andiamo a mettere una piramide E lui è lì Lui pensa di avere meno corpo in vista Ma allo stesso tempo, ragazzi La costruzione è nostra Siamo noi che decidiamo dove lui va Decidiamo noi se andrà da una parte o dall'altra Abbiamo noi il controllo del fight Abbiamo noi la possibilità di poter decidere E sentenziare tutto quanto E immaginatevi la sequenza Siamo estremamente veloci Gli mettiamo un triangolo Là sotto Ancora meglio, ragazzi Nelle season precedenti Quando si andava a mettere Una trappola Et voilà E la prima strategia è fatta e spiegata Ok Se prima la strategia era quella del cono Ragazzi Adesso la strategia essenzialmente È quello di creare dei diversivi Lo so Anche qui è molto difficile Ma andiamo un secondo a osservare con attenzione la situazione Guardate In questo preciso momento Lui, il nostro avversario Si trova estremamente protetto All'interno di quello che potrebbe essere il suo box E dice Non mi colpiranno mai Anzi Andiamo a ripristinare Andiamo a riparare ogni santa volta Un muro Metti il muro Riccardo per piacere Metti il muro Riccardo per piacere Grazie Riccardo Molto gentile In questo preciso momento ragazzi Se voi siete abbastanza abili Potete cercare magari di rimpiazzare La costruzione Non come faccio io Ok Magari così Vedete Andate a rimpiazzare la costruzione E gli sparate Potreste anche farlo Tranquillamente Ma il trucco di quest'oggi ragazzi È diverso Il cercare di creare Vedete 75 75 Quindi ci vogliono due picconate Per far fuori Un coso in legno Riccardo rimetti la barriera per piacere Grazie Cosa fate quindi voi Date una picconata Una picconata E una picconata Guardate E dopodiché Così facendo Avrete in qualche modo Distrutto Tre delle sue pareti E sebbene lui Possa essere Molto veloce O drenerà Estremamente Velocemente Tutte le risorse A sua disposizione Oppure Come andate a vedere Indubbiamente Non ha la possibilità Di fare Riguardiamolo ragazzi Questa si tratta Questa si tratta Di Un esempio Di Pura Come posso dire Effetti diversivi Ok Voi pensate Lui pensa di essere colpito là E guardate Hop 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 Ma in realtà Non è abbastanza Eccolo Eh Eh Beh ovviamente Poi ci vuole Un po' di quel che si dice Un po' di Un po' di mira Ma essenzialmente Con tre punti Da guardare I due laterali E sopra Lui non riesce a Sistemarsi Bene tutto E obiettivamente Un passo falso Un primo poi Lo farà Muori adesso Dobbiamo rifare la terza strategia Grazie Eccoci qua Terza strategia Ci troviamo ancora Nella nostra Sì sta buono Tu hai la tua Musichetta Eh Ci troviamo di nuovo Nel nostro box fight Ragazzi E guardatelo Lui è tranquillo Calmo Paccioso Ok E pensa magari Di mettere Riccardo metti una barriera Tipo Una laterale Una laterale Direttamente dentro Vedi Vedete Lui pensa in questa maniera Di essere Come potremmo definirsi In qualche modo Più sicuro Perché magari Qua davanti C'è anche una sua barriera Vedete E molto più al sicuro Di un semplice Eh Di un fight Qualsiasi In realtà ragazzi La strategia Che vi voglio Presentare Quest'oggi È diversa Guardate Noi siamo Sopra di lui In questo Fermoli Non fare assolutissimamente Niente Abbiamo appena Eroso Le sue barriere Ok E se noi mettiamo La barriera Così ragazzi In qualche modo Lui È protetto In realtà Ragazzi Non deve Essere così Dovete dargli La parvenza Di essere Protetto E poi Obiettivamente Utilizzare L'editing Per Bang Lui In quel preciso momento In quel piccolo Angusto Angolo Che si ritrova In questo preciso momento Potrebbe pensare Oh mio dio Non so dove andare A destra e sinistra Ma comunque Sono protetto All'interno Di queste Solide Mura Di Legna In realtà Ragazzi Basta utilizzare L'editing Un trucco semplice Un trucco veloce Un trucco che Bah Chissà se vi hanno mai spiegato Ma comunque sia Boom bitch Boom bitch E iniziamo Col quarto trucco Quarto trucco E il quarto trucco Ragazzi In questo preciso momento Non ci fa fare La parte Degli attaccanti Cioè quelli che attaccano Un box Ok Ma bensì Quelli che Essenzialmente Sono loro Dentro un box Per cui Riccardo Facciamo cambio Ora Cerca di Entrare Da sopra Allora Il nostro avversario Adesso noi ci troviamo Al sicuro Nelle nostre pareti Ma il nostro avversario Guardatelo È lì E sta colpendo La nostra barriera Dall'alto E noi siamo Così Vedete Ma in questo fight Essenzialmente lui Ha l'effetto Verticalità E sebbene io Magari lo stia aspettando Potrei cadere Nell'ansia della prestazione Dello stress E quindi Oh mio dio Ho mancato il colpo E per lui Sarei come un topo In trappola In realtà ragazzi Occhio Occhio al segreto Guardate il segreto Il segreto È questo State in mezzo Alla vostra costruzione E noterete Di come Improvvisamente Solamente La vostra testa Sarà visibile Per il vostro avversario Vedete Lui essenzialmente Non ha più Un grande corpo Da mirare Ha solamente Una testa E quindi In qualche modo Questo lo sbilancia Quindi in qualche modo Questo gli da Un frame Di esitazione Da parte Del vostro avversario Ma Invece per voi Quello che È essenzialmente Una barriera Non ancora completa Ok Per voi Si può tramutare In un shot Estremamente Vantagevole Ok Perché Primo Perché avete Meno porzioni Che il vostro avversario Può colpire Secondo Le armi Colpiscono Le vostre armi Scusa Riccardo Se ti sparo Fermo Le vostre armi Colpiscono L'avversario E quando la situazione Magari vedete Che si fa Un po' Incerta Avete una barriera Sopra di voi Ma comunque Avete già Dato un colpo Ecco ragazzi Questo è Esattamente Quello che Si intende Con Utilizziamo Al massimo Tutte le forzature Del Del titolo Adesso Metti come Ho fatto vedere Una barriera Obliqua E stai proprio Nel mezzo No Sbagliatissimo Ecco Fermo Immobile Vedete ragazzi Come l'obiettivo Da Ehi C'è un corpo Che La testa È dove Sto mirando io È più o meno Qua dove Ho io il mirino Ragazzi Guardate la testa È diventata Piccolissima E lui Sparami Riccardo Può spararmi Può davvero Spararmi E la barriera Ragazzi Per lui Puoi Se si Accuccia Accucciati Si solidifica E quindi È protetto E quindi Voi rimanete Con un pugno Di mosche In mano Anzi Vi dirò di più Con solamente Una barriera Da perforare Ma soprattutto Un colpo Subito Grazie Riccardo Ottima spiegazione Capuglia E per ultimo Una funzione Per cui Dov'è il mio Compagnuccio Di sparate Non c'è più Ragazzi Non arriva Arriverà Ma non mi serve Essenzialmente Perché Perché Ah eccolo qua Il nostro compagnuccio Di sparate Aia Ma Il trucco Che vi voglio spiegare Fermo Riccardo Ok È qualcosa di Molto più Semplice Di tutto Quello che abbiamo Visto Hai imparato Qualcosa Tu Sì Ecco Molto bene Allora Il trucco Di quest'oggi Ragazzi È questo L'ultimo Che è forse Quello più Importante Davanti a voi Avete la vostra Barriera Ed essenzialmente Lo so La parte Difficile Soprattutto Di fortnite E editare Perché Serve in qualche modo Coordinamento Serve in qualche modo Capire che tasti Dovete spremere Serve in qualche modo Fare molta Moltissima Pratica Ma quello che non sapete È che in realtà Il muro Da vergine Potrebbe essere In qualche maniera Pre editato Ok Adesso vi faccio vedere In questo preciso momento Cos'ho Attivato Ragazzi Ho attivato Il pre edit Il pre edit È una cosa Che in molti Hanno già imparato Ma che è difficile Mettere in pratica Ma immaginatevi In questo preciso momento Voi avete una barriera Ok Davanti a voi Dovete editare Per creare la finestrella Ma Non sarebbe meglio Avere già Una parete Con la finestrella Ecco ragazzi È un trucco Questo Difficile Da mettere in pratica Ma estremamente Facile Da capire Capirete anche voi Che avere un muro Con finestrella In qualche modo Vi agevola Nello sparo Vi agevola Nell'azione E Allo stesso tempo È difficile Poter dire Ehi Ho bisogno di questo Con la finestrella E questo Senza finestrella Essenzialmente Bisogna fare Molta 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 Pratica Però poi Dobbiamo Entrare nella modalità Fantasma Dobbiamo entrare in modifica Dobbiamo ripristinare Dobbiamo Confermare E il nostro muro Torna Certo Passare da una all'altra In un fight Non è facile Ma Se ci troviamo Magari Con Le possibilità Tecniche Di poter Avere Tutte le Pareti Con le nostre Finestre Effettivamente Dal punto di vista Tattico Ha il suo Grande Grandissimo Vantaggio Utile Non utile Beh Aspetta solamente A noi Provare E riprovare Tutti Questi Trucchi Quest'oggi E veniva elencati 5 Ma credetemi Ce ne sono Molti Molti Di più Io ringrazio Il mio piccolo Compagno Di Di Esperimenti E spero che Questi 5 Trucchi Su come Vincere I vostri Boxfight Vi sia stato Davvero Molto utili Se vi è piaciuto Mi raccomando Lasciate un like Dov'è che adesso Gli sparo Vincere